ciao a tutti ragazzi sono io il Cree bentornati in questo nuovo video scusate la lunga attesa di quasi un mese ma ho avuto un bel po' da fare tra le ferie e tutto quanto comunque mi sono rilassato ho passato delle ferie bellissime ho giocato tanto con il mio nipote ho visto mia sorella mio cognato tutti i loro parenti è stato bello 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 un dispiacere partire il viaggio non è stato dei migliori tutto parte dalla sera quando gli ho detto al mio amico roby di venire a prendere chiavi per venire a dare la papa ai miei amici è venuto ciao grazie ciao grazie e la sera mi sono detto visto che non ho le chiavi di casa ho tutto per partire così domani sono a posto sì ho aperto la valigia ho guardato dentro il beauty che ce l'ho questo ce l'ho quello ce l'ho ho tutto ok sono pronto per partire bene vado a letto la mattina mi alzo dico non ho le chiavi controllo tutto apro la valigia controllo ho questo quello quello sì ho tutto sono a posto posso andare sto per chiudere la porta ripenso ho tutto poi ma sì non sono mica scemo chiudo la porta i biglietti del treno attaccati al frigorifero con la calamita cosa faccio chiamo subito roby non mi risponde perché ovviamente era lavoro disgrazia ho chiamato la lisa l'altra mia amica chiara i chiavi di casa mia poverina l'ho svegliata alle 5 e mezza di mattina mi risponde fa crì è successo qualcosa ti ho detto lisa no scusami ma devo partire mi sono chiuso fuori casa io ho biglietti in casa sono ritardissimo scusa 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 sono volato da lei prendendo le chiavi e insomma ho recuperato i biglietti sono partito solo che avevo il treno alle 7 e 4 del mattino io sono partito da mantola alle 6 e un quarto e dovevo arrivare a reggio emilia per partire reggio emilia dista un'oretta di strada 50 minuti se proprio voli l'ho fatta tutta 130 la tangenziale un traffico camion un camion perché poi tu devi sapere che quando è fretta no ci sono sempre tutti in mezzo alle scatole camion gente tarda per strada gente che non sa guidare ha detto no sono arrivato alle 7 e 8 per 4 minuti quattro minuti ho perso la freccia non vi dico nervoso non vi dico nervoso poi biglietti con l'offerta non esercibile quindi ho rifatto i biglietti nuovi per l'ora dopo ripaga il biglietto intero la partenza è stata un po angosciante poi adesso è andato tutto bene però ora vi faccio vedere un paio d'immagini del posto splendido in cui ero in ferie tanto così per farvi un po di invidia posto meraviglioso ma non posso levarmi la mano perché mi sono bruciato guardate che spettacolo da qui su sono arroccato su una roccia in cima al mare che bel panorama io mi chiedo tante persone vanno all'estero per il mare ma stiamo in italia che nel nostro piccolo abbiamo tutto è un paese bellissimo abbiamo un mare splendido abbiamo della gente bellissima abbiamo il cibo più buono di tutto il mondo ma dove andiamo ma stiamo a casa nostra facciamo girare un po l'economia business a casa nostra insomma dai chi ne ha bisogno della nostra cara italia ho visitato il parco della sila bellissimo che è un posto in calabria in alta montagna dove non sembra neanche di essere al mare ci sono i laghi ci sono le montagne abbiamo mangiato sui tavolini da picnici panini proprio una giornata bellissima veramente e poi lì sopra ho fatto anche per la prima volta in vita mia il bob su rotaie cioè pensate che su amerano dove sono nato io ce n'è uno bellissimo e non ci sono mai stato su amerano 2000 sono andato a farlo in calabria ma che ragno c'è su quel muro ma dopo lo tolgo sono andato in calabria in alta montagna dai quasi 2000 metri non vorrei dire una cavolata prossimo sbaglio si a fare le box rotaia insomma se le cose non si fanno in montagna si fanno al mare giusto ragazzi se viaggiate sulla freccia non prendete il caffè adesso vi faccio vedere la mia reazione 1 euro e 50 questo caffè sembra acqua a sfuoto fischia imbevibile nonostante tutto sono state delle fere bellissime veramente belle veramente veramente belle il viaggio in in partenza è stato un po così facendo qualcosina per tempo non passa è lungo questo viaggio è colpa mia perché io ho paura dell'aereo quindi in aereo se raggiungi anche un'ora il treno 8 ore e mezza adesso stiamo a firenze tra poco arriviamo a roma alle 10 44 stiamo arrivando a roma sistemiamoci perché bisogna essere top perché io furbo come una faina mi son detto il biglietto di ritorno lo faccio a roma visto che ho tempo un'ora però tempo facendo il biglietto però avendo perso il treno non avevo più il tempo per farlo quindi sono arrivato giù nel frattempo mi sono dimenticato di sto biglietto di ritorno ferie mare bellissimo tutto quanto mi sono dimenticato allora mi son detto cacchiarola devo fare i biglietti di ritorno mio cognato mi ha fatto online per fortuna cosa è successo devo tornare domenica non c'era un treno abbiamo detto ma com'è possibile abbiamo guardato per lunedì lunedì non c'era un treno abbiamo detto non è possibile ci sarà il sito che è un po' in tilt abbiamo chiamato il call center non c'è un posto sono dovuto tornare martedì notte mezzanotte un quarto circa mi sono beccato il treno con le cucette mai preso in vita mia mi son detto che cavolo faccio io non riesco a dormire ho detto vabbè c'è solo questo lo prendiamo va bene mi hanno accompagnato in stazione a mezzanotte un quarto prendo sto treno salgo su circola cucetta entro dentro un inferno eravamo in quattro tre che russavano e io in silenzio a entrare per non disturbare gli altri mi sono detto non posso ascoltare la musica non posso aggiungere il display del cellulare acceso ho abbassato la luminosità del display mi sono messo un po li poi ho detto non impazzisco quindi cosa ho fatto sono uscito mi sono mangiato dopo a nini con la sorpresa calabrese alle due e mezza di mattina e tanto per stare un po' leggeri no visto che sono partito che pesavo 77 kg e 4 sono tornato che ne pesavo 80 kg e 6 in una settimana proprio vero al sud si mangia bene riesco fuori ma sto panino 2 e non riesco a aprire la porta mi hanno chiuso fuori busso e non mi rispondono ho detto vabbè aspetto qui davanti ho aspettato davanti finalmente dopo 20 minuti circa è uscito uno mi sono intrufolato dentro ho detto boh andai cerco un po di dormire mi sdraio mi hanno rubato il cuscino ho detto ma guarda questi maledetti niente mi sono sdraiato preso il mio zaino l'ho usato come cuscino mi sono addormentato per un'oretta circa dopo mi sono svegliato mi giro mi giro mi giro un inferno finalmente sono arrivato a roma ho preso la freccia sono arrivato a raggi miglia il tempo di scendere dal treno un amico mi chiama e mi fa ma ciao ma sei tornato dalle ferie gli ho detto guarda sono appena scese in questo momento dal treno fermate a fare colazione su zara che è un paesino a una quindicina di chilometri davanti ma ho detto vabbè sono di passaggio ok perché no dopo una notte d'inferno ho dormito un'ora stanco morto mi fermo a questo bar finalmente mangiamo qualcosa mi sono fatto un cappuccino due brioche dopo parla con questo amico racconta questo e quest'altro se sono fatte le 10 di mattina il mio amico fa ascolta adesso ci facciamo l'aperitivo io voglio andare a letto invece no ho dovuto farmi l'aperitivo beh due spritz neanche uno due spritz sono rimasto lì fino alle 11 qualcosa dopo sono andato a casa io ho dormito tutto il giorno non ne potevo veramente più comunque raga questo è il riassunto delle mie ferie da rifare però in famiglia si sta proprio bene soprattutto quando hai un nipote soltanto e lo vedi veramente poco sono stato veramente felice questo video è terminato vi è piaciuto lasciate un like se non l'avete fatto iscrivetevi al canale questo è tutto vi mando un bacione alla prossima ciao